che bella partita ragazzi delle volte bisogna riconoscere il valore di altre squadre oggi veramente ho visto intanto faccio questo video nell'attesa che inizi il classico siamo nel livello di playoff il classico NFL tra Dallas Cowboy e San Francisco 49ers forse con i New England Patriots di Predi le franchigie più famose al mondo di NFL e niente tornando ad Atalanta Inter ho visto una gran bella partita ho avuto delle conferme nel senso che l'Inter ho visto un Inter stanca ed è la seconda volta che vedo un Inter stanca io mi incazzai mercoledì perché noi la si poteva aggredire quella partita perché loro erano cotti loro fisicamente erano cotti e vedrete che mercoledì soffriranno anche contro l'Empoli in Coppa Italia vedete di passare passano ma non sarà facilissima la partita con l'Empoli mercoledì in Coppa Italia per loro ho visto l'Inter stanca che però è sempre pericolosa perché ha talmente tante frecce al suo arco che è la classica squadra che oggi ha giocato molto meno bene di altre volte però è una squadra che ti può far male in qualsiasi momento con Dzeko, con Lautaro, Cialanoglu e tanti altri c'è da dire che l'Atalanta mancava di sei di sei i pedini mica da ridere Zapata, Malinowski, Ilicic, Atebur, Gosens, Mele insomma sono sei titolari, cinque sei titolari fuori non è roba da tutti eppure gli hanno messi in grossa difficoltà dal punto di vista del gioco io poi vorrei fare io poi vorrei dire un po' accusa agli interisti ci sono gli interisti alcuni interisti che per me sono incapaci di intendere di volere specialmente alla luce di questa partita che sono quelli che criticano Andanovic facciamo cambio ve lo porto io Scesni vi do Scesni e soldi datemi Andanovic vi do Scesni e 10 euro datemi Andanovic veramente veramente dico Jimmy Garoppolo dei Niners intanto e poi raga altri interisti che non capirò mai chi parlano di Barella sopravvalutato ragazzi Barella è il cuore di questa squadra Barella è il vero leader di questa squadra Barella cioè Barella sa fare tutto sa segnare sa fare assist sa contrastare sa coprire l'avete visto dal lato di Perisic l'avete visto dal lato di Perisic in questa partita stasera perché lui sa che Perisic pur molto migliorato da questo punto di vista ha dei limiti difensivi lui cosa fa? va e lo copre e poi dopo un secondo devo vedere di fare quell'assist di tacco ad Ambrosio che veramente oh raga io quando dico che in questo qua rivedo Tardelli non penso di esagerare questo ragazzo sa fare tutto è un e mi fa incazzare non Barella mi fa incazzare che nell'anno in cui l'Inter prende Barella e Sensi perché io Sensi non lo dimentico la Juve piglia Rabiot e Ramsey su Ramsey vabbè c'è un capitolo a parte perché io per me Ramsey è un gran giocatore solo che i suoi limiti fisici sono troppo troppo evidenti Barella signori Barella è Barella consente all'Inter di giocare praticamente con con due registi con Brozovic e con Cialanoglu signori Brozovic va bene è un gran giocatore così come un gran giocatore Cialanoglu e io lo dico da quando era al Milan dal primo anno che andò al Milan che Cialanoglu era forte molti ora lo stanno scoprendo che Cialanoglu è forte io l'ho sempre saputo che Cialanoglu è forte vabbè che dire però ho visto un Inter stanca però ho visto un Inter stanca come ho detto a inizio video e secondo me io qualche domenica fa ho detto che il campionato oramai lo possono perdere solo loro ma non lo so secondo me Milan e Napoli possono ancora crederci per me è chiaro che l'Inter è la grande favorita ma per me Milano e Napoli possono crederci il Milan perché sta qui sento continuità soprattutto per un fattore attenzione il Milan non ha le coppe il Milan è nella stessa situazione dell'Inter dell'anno scorso a questo punto della stagione è nella stessa medesima situazione in cui era l'Inter l'anno scorso fuori dalla Coppa Italia fuori dalla Champions League fuori dall'Europa League puntava tutto sul campionato è la cosa che potrebbe fare benissimo il Milan quest'anno quest'anno il Milan è una rosa più larga di molto inferiore a quella dell'Inter però per me può crederci perché vi spiego perché perché ho visto un Inter stanca un Inter stanca un po' in cavo di condizione e poi è una caratteristica delle squadre di Inzaghi che nel finale di stagione calano la Lazio di Inzaghi noi ce la ricordiamo soprattutto in un paio di stagioni quelle dove ci ha fottuto la Supercoppa dove ha fatto un grande una grandissima prima parte di stagione per poi calare alla distanza nel finale ecco non so vedremo un po' come si lo so intanto ha vinto un trofeo è pur sempre un trofeo loro hanno festeggiato giustamente ma io ho visto un Inter un po' in debito di ossigeno vediamo per me sarà molto importante il derby attenzione se il Milan vince il derby e le cose possono cambiare e non dimentichiamo il Napoli non dimenticate il Napoli il Napoli è stato molto sfortunato con le assenze è vero ha gettato nel cesso punti contro Empoli Spezia chi più ne ha più ne metta ma il Napoli è stato molto sfortunato dal punto di vista delle defezioni il Napoli è venuto a giocare a Torino senza praticamente 7-8 titolari e ha fatto una gran partita domani il Napoli che se non sbaglio ha 43 punti il Napoli può accorciare la classifica vincendo a Bologna può accorciare la classifica per me Milano e Napoli possono ancora crederci l'Inter resta la più forte però fossi interista non sarei molto contento della prestazione di stasera che oggi veramente potevano mai ho visto l'Inter così in difficoltà come stasera neanche quando ho perso la Roma con la Lazio vi dirò di più neanche nel doppio confronto con Real Madrid ho visto l'Inter così in difficoltà come stasera ribadisco all'Atalanta mancavano 6 titolari Simone poi ha fatto delle scelte ha tenuto Lautaro in panchina questa è una squadra che non può prescindere da da 3-4 elementi che sono il portiere Andanovic Bastoni raga quanto è forte Bastoni ribadiamo ribadisco nell'anno in cui loro pigliavano Bastoni Barella Sensi compaglia cantante noi si pigliava Demiral Rabiot Ramsey eccetera eccetera va bene Bastoni intanto touchdown dei Niners touchdown dei San Francisco 49ers intanto io tifo per loro va bene va bene Elia Mitchell Bastoni Barella Brozovic questi questi sono la vera ossatura dell'Inter questi sono la vera ossatura dell'Inter ecco per chi questo pensiero lo dedico agli interisti che piangevano tanto una lacrima per le eccezioni di Lukaku e soprattutto di Achimi avete visto Dunflis come è entrato perché ho citato la copertura di Barella dal lato di Perisic perché ora Dunflis non ne ha bisogno di quella copertura a differenza di Perisic a differenza di Achimi dell'anno scorso Dunflis sa fare benissimo le due fasi cosa che Achimi faceva benissimo la fase offensiva molto meno quella difensiva e come dico sempre io lì è stata grande abilità di Conte a farli partire ad arretrare le linee e a sfruttare gli spazi con Lautaro e Lukaku lì è stata la grande bravura di Conte ora loro nel frattempo hanno acquisito consapevolezza e guardate cosa guardate l'importanza di Barella ti puoi permettere due registi che sono due ex trequartisti perché Brozovic nasce trequartista ti puoi permettere di scrivere praticamente due ali che sono uno Dunflis e l'altro Perisic e due punte guardate l'importanza di questo ragazzo nel centrocampo dell'Inter questo si avvia a essere uno dei migliori in Europa io attualmente io attualmente di quelle con quelle caratteristiche adesso la sparo grossa guardate io con quelle caratteristiche meglio di Barella allo stato attuale con quelle caratteristiche di incontrista più che di fine di incontrista incursore più che di fine di citore meglio di lui al momento vedo solo Kevin De Bruyne meglio di Barella in quel ruolo vedo solo Kevin De Bruyne ragazzi la sto sparando la sto sparando grossa può darsi ma delle volte da non tifosi si vede meglio si capisce meglio l'importanza di un calciatore perché non si è presi dal tifo ecco perché ecco perché io non capirò mai gli interisti che criticano Barella ma quelli sono pochissimi ancora di più quelli che criticano Andanovic questo ragazzo veramente io quando hanno vinto lo scudetto veramente io sono antinterista riscerale in prima linea tutto ciò che posso pensare male di male quando si parla di inter lo penso male però signori quando l'anno scorso hanno vinto lo scudetto io sono stato contento per questo ragazzo qua per Samira Andanovic un professionista esemplare che oggi gli ha letteralmente salvato il culo e non solo oggi iscrivetevi al canale grazie a tutti